Bordini, la conclusione è deviata, vediamo Giacimancini Cavallolo fa il vantaggio del Granada con Leonardo Cavallolo che risulta alla Cristiano Ronaldo vediamo il tiro, il gol, il gol di Bordini per Olimpieri, ancora Sepi, vediamo chiude Bordini Parrino, il tiro, il gol, golasso di Parrino Attenzione, Sepi, miracolo di Cavallolo, ma Sepi la mette dentro e blocca Cavallolo, riparte Cardarelli Attenzione Cardarelli, rientra sul destro, il tiro, il gol, grandissimo gol di Cardarelli La mette in mezzo, Valenti, c'è il gol, il gol di Valenti, da calcio d'angolo Valenti, Conticelli, il numero di Conticelli, il tiro, miracolo di Cavallolo Attenzione, ancora Conticelli, ancora il gol, non c'è il gol, incredibile Chiudeva Conticelli, si gira, attenzione Per Paggi, il tiro, il gol, il gol di Paggi, il pareggio del Ghiettafi, incredibile Bordini, ancora Cardarelli, il gol, il gol di Cardarelli, a giro Parrino, allarga per Mariani, la mette in mezzo per Parrino, il gol, non sbaglia Parrino Sola da porta, vediamo, attenzione, Mariani, la conclusione, il gol, il gol di Mariani Perde palla, vediamo Parrino, ancora Parrino, il numero di Parrino, il tiro, il gol, gol, adesso di Parrino, grande gol Perde palla, attenzione, il tiro, il palo, vediamo Conticelli, il gol, il gol di Conticelli Il tiro, il gol, il gol, adesso di Eduardo Parrino Il numero, Terreno Lempieri, Valenti, ancora Valenti Prova il tiro, il gol, grandissimo gol di Valenti Parte Valenti Il palloletto, il gol, il gol, adesso di Andrea Valenti Si estende la stanchese del Getafe, è come, vediamo, Paggi Lo mette in mezzo, Valenti, il gol, il gol di Valenti, il 9-8, attenzione Grazie 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 Grazie